Test di registrazione video in Full HD dalla camera posteriore o forse meglio dire dalle fotocamere posteriori di Leeko o meglio Coolpad Cool1 dispositivo interessante perché innanzitutto ha un buon rapporto qualità prezzo e si caratterizza anche per la presenza di questo doppio sensore fotografico davvero interessante in ogni caso vediamo adesso nel video test come si comporta questa doppia fotocamera ed è anche la messa a fuoco è piuttosto veloce cambiamo scenario con molta più luce si adatta anche abbastanza velocemente innanzitutto vi porto anche a vedere un po' la stabilizzazione come è effettivamente spostiamoci nuovamente sulla pianta le qualità delle immagini piuttosto buona vi ricordo che abbiamo anche la possibilità di registrare in 4k e nell'interfaccia fotografica abbiamo anche la possibilità di scattare fotografie intanto qui passa il fruttivendolo della situazione a vendere le più disparate frutte di stagione almeno così così sembra e vi ricordo video in full hd da Leeko Coolpad One Cool One con un nuovo video qui Grazie.